Il secondo concorrente viene dalla Romania a 22 anni e si chiama Mircia Gogoncia è allievo di Joachim Clerks presso la Robert Schumann Hochschule di Dusseldorf e di David Russell alla Royal Academy of Music di Londra ha già collezionato numerosissimi riconoscimenti tra cui spiccano il primo premio al Sertamen Kulean Arcas di Almeria nel 2013 e il premio del pubblico al Sertamen Francisco Tarrega di Beni Kassim nel 2010 ci farà ascoltare una trascrizione del capriccio numero 5 tratto dalla famosa raccolta di 24 capricci di Niccolò Paganini Mircia Gogoncia Grazie a tutti i nostri spettatori 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 Grazie a tutti i nostri spettatori